Ciao, oggi parliamo dell'epistolario di Petrarca. Allora, durante la sua vita Petrarca scrisse moltissime lettere a moltissimi destinatari. Attenzione però, perché non si tratta di componimenti privati come oggi intendiamo una lettra, quindi uno scritto che è destinato a essere privato o comunque che lo legga solamente la persona al quale io lo mando. Per Petrarca infatti questi sono degli scritti letterari, cioè che sono rivisti, selezionati, modificati, corretti, risistemati in vista della loro diffusione pubblica, cioè della pubblicazione, della resa pubblica. Quindi mi raccomando è un concetto molto diverso rispetto al nostro concetto di lettera. Non è però, attenzione, un concetto inventato da Petrarca perché già autori latini concepivano la lettera, l'epistola, in questo senso, nel senso di epistola pubblica da pubblicare. Cosa fa in generale in queste lettere Petrarca? Petrarca vuole usare il mezzo della lettera per consegnare ai posteri, cioè alle persone del futuro, l'immagine di sé costruita come lui vuole. Quindi usa la lettera per costruire la propria immagine e praticamente creare un proprio ritratto che chiaramente è fittizio, cioè noi non sappiamo se quello è Petrarca vero. Quello sicuramente è il Petrarca che voleva essere descritto in quel modo lì, come lui voleva mostrarsi. L'immagine di sé che ci vuole dare lui è quella di un intellettuale desideroso di coltivare soltanto i propri studi letterari, quindi di dedicarsi solamente alla letteratura, lontano dalle meschinità, dagli inganni della vita politica e dai interessi bassi del popolo. Lui vuole distinguersi e fare il letterato, come già vi dicevo nella biografia. Come è composto questo epistolario? Allora, l'epistolario si compone di tre raccolte distinte. La prima è quella delle familiari, che raccoglie su per giù 350 lettere, quindi moltissime, e quindi è anche la sezione più corposa dell'epistolario. In questa parte di epistolario, nelle familiares, gli eventi biografici, quindi relativi alla vita di Petrarca, sono l'occasione per ripensare alla propria attività intellettuale e quindi diventano lo spunto, cioè spunti della vita quotidiana, diventano il pretesto per poi riflettere sulle proprie concezioni intellettuali, letterarie, sulle proprie riflessioni anche filosofiche. Queste lettere hanno numerosissimi destinatari che ci testimoniano quello che già vi dicevo, cioè l'ampiezza della rete di contatti di Petrarca, che conosce sia persone dotte, intellettuali, ma anche politici, persone eminenti, persone importanti di tutta Europa. Ci sono sia lettere realmente spedite, sia lettere totalmente fittizie, inventate, che sono sostanzialmente delle opere letterarie pure. Ad esempio, un libro all'interno di questa sezione delle familiares è costituito da lettere indirizzate ai più illustri degli antichi, cioè a persone morte, a persone che sono i grandi autori della classicità, del mondo latino soprattutto. La più celebre lettera di tutte le familiares è quella che racconta l'ascesa, quindi la salita, al Monte Ventoso. L'autore ci dice che è avvenuta nel 1336, che è un evento della sua vita realmente accaduto in quell'anno. In realtà noi sappiamo che la lettera fu composta probabilmente nei primi anni 50, quindi capite come realtà e finzione si intersecano. La seconda sezione all'interno dell'epistolario è quello delle senili. Senili vuol dire vecchiaia, le lettere della vecchiaia. In questa sezione il tema più frequente è quello della meditazione sulla morte, soprattutto per via di una serie di lutti personali e soprattutto anche un crescente distacco dalla vita pubblica. E quindi spesso hanno un tono abbastanza malinconico, dolente, doloroso, perché Petrarca si sta progressivamente allontanando dagli incarichi che aveva e si sta ritirando, come succede in Veneto, a dedicarsi solamente alla sua attività di letterato. In questo caso Petrarca ci vuole fornire un'immagine di sé come di un uomo che ha saputo imparare dai propri errori, che riflette su quello che ha fatto nella sua vita e che ha imparato dai propri errori. Pensate che lui scrive in una di queste lettere, l'adolescenza mi illuse, la gioventù mi traviò, cioè mi portò sulla cattiva strada, mi diede illusioni, ma la vecchiaia mi ha corretto. L'ultima delle sezioni all'interno dell'epistolario è quella delle lettere, sono solamente una ventina, chiamata sine nomine, che è latino e vuol dire senza nome. In questa sezione vengono sviluppati soprattutto argomenti politici e religiosi, come ad esempio la critica alla presenza ad Avignone del papato, che secondo Petrarca doveva tornare nella sua sede naturale di Roma. Dal momento che i temi risultavano potenzialmente compromettenti, potenzialmente pericolosi, scomodi, insomma, perché appunto è politica e religione, Petrarca sceglie di non rivelare il nome dei destinatari e appunto da questo deriva il titolo di sine nomine, cioè non sappiamo a chi Petrarca scrive o a chi Petrarca risponde.